Da Ipermoda Factory sconti incredibili da fuori tutto! Oltre 60 marchi per vestire tutta la famiglia con capi di qualità a prezzi scontatissimi. In ogni reparto troverai inoltre interessanti offerte sotto costo. Affrettati per non perdere l'occasione di fare grandi affari senza rinunciare a stile e qualità. E non scordare, mentre acquisti accumuli punti con la nostra Fidelity Card. Visita il nostro sito www.ipermodafactory.it Seguici su Facebook e soprattutto vieni a trovarci! Ti offriamo ampio parcheggio e Wi-Fi gratuito! Ipermoda Factory ti aspetta a Navacchio, zona commerciale uscita pubblica in Navacchio-Lusignano.